Il Lelido La Lucciola sul lungomare Celomme di Roseto pronto a nuova vita. La regione Abruzzo, proprietaria dello stabilimento balneare, ha infatti ufficializzato il passaggio al comune rosetano. Nei giorni scorsi ha approvato l'atto amministrativo con il quale proprio la regione trasferisce tutti i beni e voltura dei titoli concessori in favore dell'amministrazione guidata dal sindaco Sabatino di Girolamo. Si tratta di un bar con annessi locali e servizi di 95 metri quadri, di 5 cabine spogliatoio, di una piattaforma scoperta di circa 490 metri quadri e di un tratto di arenile per posa ombrelloni, sdraio e camminamenti di 6.330 metri quadri. Lo scorso anno il Lelido La Lucciola è rimasto di fatto chiuso e durante questo inverno è stato più volte oggetto dell'azione dei vandali che hanno imbrattato i muri, scardinato gli interni, danneggiato le sedie in plastica e la copertura, abbandonando inoltre bottiglie di birra vuote un po' ovunque. Una situazione di totale abbandono che aveva allarmato anche i titolari di stabilimenti balneari confinanti stanchi di convivere con questa situazione e proprio il comune di Roseto aveva più volte sollecitato nel tempo la regione affinché venisse presa una decisione in merito al futuro di questo stabilimento balneare. Con il passaggio delle competenze potrà ora essere pianificato un bando per l'affidamento in gestione dello chalet che potrà quindi tornare a nuova vita. Finalmente abbiamo l'ufficialità della notizia, commenta soddisfatto il primo cittadino rosetano, siamo innanzitutto grati alla regione Abruzzo per aver definito in tempi ragionevoli questa vicenda, siamo nelle condizioni di provvedere in tempo utile a dare in gestione lo stabilimento. La Lucciola è in una posizione strategica al centro della riviera al ridosso della stazione ferroviaria con una considerevole area asservita e con un ampio spazio sul lungomare. Può essere un ottimo investimento e come amministrazione ci puntiamo molto. Il bando sarà pronto a stretto giro anche perché la stagione turistica è alle porte e l'idola Lucciola non può restare ancora un anno con i battenti chiusi.